Allora, questo pomeriggio, come abbiamo anticipato questa mattina, vediamo la formulazione degli elementi finiti basata sul metodo di Galletti e per farlo, a differenza dell'anno scorso in cui ho speso molto più tempo sulla teoria, quest'anno vorrei farlo direttamente con un esempio pratico. Chiaramente parliamo di un esempio monodimensionale, in particolare andiamo a vedere il profilo di temperatura lungo la letta, cosa che abbiamo fatto per differenze finiti e a questo punto non possiamo più farlo anche per gli elementi finiti. Prima di farlo però dobbiamo spendere proprio 5 minuti del nostro tempo per capire che cos'è questo metodo di Galletti. Parliamo di formulazione, chiaramente si intende che sono tutte le procedure se vogliamo chiamarle così, l'abbiamo detto più volte, per passare da le equazioni differenziali alle derivate parziali al sistema di equazioni del genere, da risolvere successivamente. Qual è il principio? Allora, se ho una funzione phi di x uguale a 0, oppure f se volete, come preferite, cioè che abbiamo utilizzato il simbolo phi per indicare la variabile, potremmo fare così, utilizziamo il simbolo L, che tipicamente L grande viene utilizzato ad indicare un'equazione differenziale delle derivate parziali. Quindi questa è un'equazione differenziale delle derivate parziali. Ora, avete visto questa mattina che attraverso la discretizzazione spaziale io passo dalla x alla x approssimata sul dominio, che praticamente è data dal prodotto matriciale di nx con i, dove n sono le funzioni di forma, l'abbiamo visto questa mattina, è di x, quindi sono i valori nodali. Bene. Ora, in maniera molto semplice, se apri il po' l'operatore esatto alla soluzione approssimata non avrò più 0, identicamente. Pensate al caso che abbiamo visto stamattina della curva approssimata con una retta c'era uno scostamento, però la soluzione esatta e la soluzione approssimata non avrò più 0 ma avrò un residuo che chiamo R, diverso da 0, evidentemente. Il metodo dei residui pesati, che è una metodologia di cui fa parte il metodo di Kadierkin, quindi diciamo che potremmo pensare al metodo dei residui pesati come una famiglia che contiene vari metodi, uno di questi è quello di Kadierkin dice che se sto eseguendo io calcolo su un certo dominio omega e integro su omega la quantità di doppio buconini per L in deomita, ponendo tutto per 0, ovvero integro sul dominio il residuo moltiplicato per una funzione di peso arbitraria ponendo il tutto uguale a 0, ottengo la mia formulazione questa procedura qui definisce il metodo dei residui pesati la scelta della funzione di peso che abbiamo detto è arbitraria definisce il particolare metodo all'interno della metodologia dei residui pesati per esempio, già che questa doppio buconi è arbitraria il caso più semplice è scegliere doppio buconi pari all'1 in questo caso si parla del metodo del sottodominio per esempio, che fa parte della famiglia dei residui pesati in particolare il sottodominio e allora a questo punto ci chiediamo che cosa contraddistingue il metodo di Kadierkin rispetto agli altri nel metodo di Kadierkin la funzione di peso è pari alla funzione di fondo e questo è ciò che contraddistingue il metodo in particolare ok? ora, come tutto questo effettivamente ci porti alla formulazione cioè a scrivere un sistema di rivoluzione algebrica lo vediamo, come detto, direttamente con un esempio quindi volutamente non vogliamo spendere troppe parole sulla parte teorica lo vediamo direttamente, praticamente va bene? avete capito, no? più o meno quello che vi ho detto finora? tutto chiaro? avete dei dubbi? nessun dubbio? bene, e allora partiamo direttamente con un caso pratico applicativo abbiamo detto che andiamo a studiare il profilo di temperatura lungo una retta di conseguenza stiamo parlando di un problema che conosciamo benissimo a questo punto una retta a sezione costante lunga L con estremità di abatica quindi qui avremo del t su dx con inostra L uguale a 0 quindi questa è una delle condizioni al contorno l'altra condizione al contorno è di 0 uguale a T con S ovviamente la retta magari potremmo ritenere che sia a sezione circolare quindi questa è la nostra x che purtroppo è andata a finire sopra la condizione al contorno va bene? allora sistemiamo quindi qui avremo del t su dx x vale L di 4 da 0 benissimo questa è l'asse x con origine evidentemente in corrispondenza della superficie di base e la retta si trova immessa in un fluido a temperatura di infinito con un coefficiente di scambio a tempo conosciamo già l'equazione inutile star lì di nuovo a ricavarle eccetera l'equazione del tipo derivata seconda di t rispetto a x quadro uguale a 2 quadro t meno t infinito allora m è la radice di h segnato p su k a e conosciamo anche la funzione esatta che se non ricordo male era t meno t infinito diviso t con s meno t infinito su questa magari dovete controllare perché stiamo andando a memoria coseno iperbolico di m x meno l diviso coseno iperbolico tml e questa dovrebbe essere la soluzione analitica se non ho commesso errori puoi per sicurezza andare a controllare bene ok da qui partiamo ora i passi sono sempre gli stessi quindi la prima cosa che facciamo è la generazione della griglia computazionale per nostra semplicità realizziamo una griglia uniforme quindi dividiamo il nostro dominio in cinque nodi però il nodo a sinistra è a temperatura nota quindi di fatto non è un incognito del problema notate che in questo caso il nodo ricade proprio sulla superficie a t con s quindi la temperatura qui sarà proprio a t con s questi sono nodo 1 2 3 4 e gli elementi dimumeriamo come al solito con il numero cerchiato elemento 1 elemento 2 elemento 3 ed elemento 4 quindi abbiamo sostanzialmente 4 elementi e 4 nodi incogniti un nodo è noto e a questo punto possiamo iniziare ad applicare il metodo allora iniziamo quello che dobbiamo fare è integrare nel nostro caso un'integrale di linea utilizzando una funzione di peso integriamo il residuo che è l'attivazione dell'operatore esatto sulla funzione approssimata utilizzato con una funzione di peso che nel nostro caso è la funzione di forma e poniamo il tutto pari a 0 allora poiché l'equazione la posso scrivere in questo modo derivata seconda di t semplicemente la sto riorganizzando non sto facendo nulla di particolare meno m quadro t è uguale a meno m quadro infinito allora vado ad integrare questi tre termini separatamente termine A termine B e termine C iniziamo dal termine A applichiamo il metodo di Gajerchi e questo e quindi che cosa faccio? integrale in linea ovviamente funzione di peso n è trasposto perché n è trasposto? perché n lo scrivo qui poi lo cancello n uguale ni ng chiaramente n trasposto uguale ni ng quindi questo significa che sono su due righe la prima riga vedrà è associata al nodo i la seconda riga al nodo j sul nodo i avrò come funzione di peso da n con i sul nodo j da n con i ecco perché si scrive n trasposto per avere le due funzioni di peso allora a questo punto questo lo cancello era solo per chiarire velocemente questo aspetto quindi n trasposto e questa ripeto è la mia funzione di peso che moltiplica l'operatore esatto che è derivata a seconda partita di spetta x applicato alla soluzione approssimata che è disegnato integrato in dx e ovviamente questo sarà il residuo e tutto diventa uguale all'integrale lungo n n trasposto ora la derivata seconda l'ha alla funzione di peso perché sappiamo lo scrivo qua che è disegnato è uguale ad n per t dove è n una funzione algebrica di x a proposito io ho dato per scontato non l'ho nemmeno detto in effetti forse l'ho detto e non me ne sono accorto utilizziamo elementi lineari monodimensionali nel caso più semplice va bene quindi questa li ed n j sarà del tipo a con i più b con i x con i n j uguale a con j e b con j x con i anzi a questo punto prima di procedere forse nel caso descriverci da una parte e tenerci conservato proprio le espressioni delle funzioni di forma così poi ce le abbiamo pronte e le possiamo utilizzare quando vogliamo allora facciamo così cancello la soluzione analitica intanto all'occorrenza la possiamo sempre andare a riscrivere e ci scriviamo qui le funzioni di forma che erano n con i di x è uguale a x x com'era x meno x con i no era x con j meno x x con j meno x perché sto pensando che deve essere se ne varia 1 nel nodo e 0 nell'altro quindi x con j diviso x con j meno x con i è l va bene n con j invece è x meno x con i diviso l ora la derivata di n di n rispetto a x che abbiamo chiamato matrice b questa mattina abbiamo detto si può chiamare matrice b è meno 1 su l 1 su l ok tutto chiaro? questo ce lo teniamo qui conservato perché lo riutilizziamo nella nostra formulazione fin qui stato seguendo avete qualche dubbio qualsiasi dubbio mi fermo e ripeto tutto chiaro no? bene ok allora a questo punto questo diventa n trasposto per la derivata seconda di n fatta rispetto a x quadro per t in x ma qui subito abbiamo un problema qui abbiamo un problema perché se l'elemento è lineare la derivata prima è una costante la derivata seconda è 0 giusto? quindi qui avremo un 0 e le cose non funzionano però noi sappiamo che in realtà la soluzione esiste quindi in qualche modo questo problema deve essere superato allora anche qui senza spendere troppe parole andiamo a solo si utilizza la cosiddetta formulazione debole senza star lì a guardare nel dettaglio gli aspetti matematici che ci permettono di dire che la soluzione del problema debole di fatto è la soluzione del problema forte non andiamo nei dettagli ma di fatto che cosa facciamo? l'integrazione per parti quindi la formulazione debole si traduce di fatto nell'integrare per parti questo integrale il che diventa quindi se ricordate la regola dell'integrazione per parti avremo si scala di un ordine di integrazione e si scarica una derivata sulla funzione di peso perché questo è come fosse l'integrare di fc' lo ricordate? più o meno quindi si scarica questa derivata seconda diventa derivata prima se scariciamo in ordine di integrazione avremo n derivata prima n trasposte derivata prima di n fatta rispetto a x per p scala n e questo va valutato ai due estremi i e j ora vediamo che cosa significa perché di fatto essendo su un'integrale di linea scalare l'ordine di integrazione significa fare la differenza agli estremi come abbiamo fatto nei volumi finiti se fosse stato un problema bidimensionale questo qui sarebbe stato un'integrale di superficie e questo è un'integrale di linea ovviamente un problema 3d volumi superficie meno l'integrale di linea di ora una derivata da scarico sulla funzione di peso e quindi avrò derivata di n trasposto per x per derivata di n fatta rispetto a x per t di x e così facendo ho risolto il problema perché non compagno più derivate seconde della funzione di peso però dobbiamo capire bene come svolgere questo integrale adesso ora se ragioniamo sul generico elemento ij in questo modo qua e questa è la x la normale uscente è esattamente come abbiamo visto per i volumi infiniti sarà pari a più 1 a destra meno 1 a sinistra ok quindi questo significa che quel termine diventa una differenza valutata di una differenza tra cosa tra tutta questa quantità valutata all'estremo destro meno la stessa quantità valuta dall'estremo sinistro ok mi seguite ora che succede allora se vado a valutare tutta questa quantità all'estremo destro avrò ni nj valutata sul noto j perché siamo all'estremo destro ma sul noto j ni vale il noto j ni vale quanto la funzione di forma vale 1 sul nodo a cui associata e 0 su tutti gli altri nodi quindi se sto valutando questa quantità sul nodo j ni quanto vale nj invece 1 1 e allora questo significa che qui avrò 0 1 e questo avvenne rasposto questa quantità qui altro non è che la derivata di t segnato rispetto a x cioè l'applicazione dell'operatore esatto alla soluzione è approssimata meno vado a valutare questo ovviamente è valutato sul nodo j sul nodo j vado a fare la stessa cosa sull'altro nodo dove devo mettere il segno meno perché la normale scelta è meno 1 quindi per questo che vuole la differenza allora qui avrò n i n j valutate sul nodo i dove n i vale 1 n j esatto quindi avrete 1 0 e il disegnato su dx valutato sul nodo i ok e questo è il primo pezzo spendiamo subito una parola su questo primo pezzo se su uno dei nodi è applicata una condizione al contorno di flusso noto è qui che la parte del posto perché flusso noto vuol dire dt su dx no quindi per esempio se su un nodo j ho un flusso noto qui vado a mettere il numero che è rappresentativo del flusso e impongo la condizione al contorno questo quindi diventa un termine noto e va al secondo numero chiaro? secondo pezzo allora questo mettiamo segno meno questa matrice qua è b trasposto questo è b quindi il tutto è meno b trasposto t b è meno 1 su l 1 su l quindi è una costante la porto fuori dal segno di integrale ma anche i valori nodali li possono portare fuori dal segno di integrazione quindi tutto questo posso portarlo fuori dal segno di integrazione e mi rimane integrale su l dx giusto? sostanzialmente scriviamo qua il termine a così poi cancelliamo e andiamo a guardare gli altri termini termini a allora quindi il termine a diventa meno b trasposto quindi meno meno 1 su l 1 su l prodotto matriciale di meno 1 su l 1 su l per l'integrale su l questo qua restituisce proprio la lunghezza dell'elemento per tutte quindi che l è uguale allora andiamo all'altro lato e ottengo 1 0 per t per x valutato al nodo i meno 0 1 per t per x valutato al nodo i se faccio questo prodotto matriciale qua ora lo scrivo qui a destra e poi lo sostituiamo lì il prodotto matriciale lì è meno apro parentesi 1 su l quadro meno 1 su l quadro meno 1 su l quadro 1 su l quadro che è un prodotto righe per colonna matrice 2 per 1 1 per 2 restituisce una 2 per 2 quindi devo fare questo per questo questo per questo ecc poi va moltiplicato per questo l qui quindi tutto è pari a 1 su l che moltiplica meno 1 1 meno 1 1 avendo ovviamente messo in evidenza 1 su l positivo ci siete? di conseguenza questo termine e alla fine è 1 su l meno 1 1 meno 1 1 eccolo qua questo l si compare perché l'ho usato per semplificare l'l quadro che stava il denominatore ed ecco la forma finale del termine tutto chiaro dubbi? domande? è un pochino più complicato degli altri metodi però se avete qualsiasi dubbio chiedete ripeto posso andare avanti? allora questo lo possiamo cancellare sicuramente vedete e andiamo a vedere il termine B allora il termine B E lo prendo con segno positivo M quadro lo posso portare fuori dal segno di integrale N trasposto P segnato in questo caso direttamente P segnato il che è uguale a M quadro integrale su L di N trasposto N P indirizzo adesso questo N trasposto N è sempre un prodotto matriciale intente è Ni N J Ni N J questo prodotto matriciale qui che è ancora un prodotto tra una 2 per 1 moltiplicata matricialmente per una 1 per 2 quindi restituisce una matrice 2 per 2 che è Ni quadro Ni N N J N J J quadro ok quindi questo che cosa significa devo cancellare però queste cose che ho appena scritto quindi aspetta un attimo o la riscrivo però in questo momento devo cancellare allora quindi questo che cosa significa significa che il tutto è pari a M quadro dopodiché ho di fatto questa matrice integrale su L di Ni quadro di X integrale su L Ni N J di X chiaro che questa è una Ni di X Ni di X N J di X ovviamente no io non lo sto riscrivendo ma è così Ni N J di X integrale sulla G N J quadro di X e poi qui abbiamo T con I T con G a questo punto questa mattina ricordo di avervi detto una cosa e cioè le funzioni di forma o funzioni di base o possono essere chiamate in vari modi io le chiamo sempre funzioni di forma o funzioni intercolanti quello che volete sono di fatto arbitrarie ricordate che ve l'ho detto questa mattina però si scelgono algebriche perché facilmente integrabili e derivabili ed ecco perché adesso per esempio le dobbiamo integrare allora quando si scelgono delle funzioni di forma algebriche di tipo diciamo così noto direi no? se è lineare A più BX non è che mi invento funzioni di forma particolare allora sui libri su diciamo in letteratura sono già disponibili delle formule già pronte per l'integrazione in particolare queste formule le scriviamo da una parte le scriviamo qua o le mettiamo da una parte dove possiamo concentrarci ma spazio è finito le mettiamo qua vai allora se faccio un'integrazione su una superficie di NI alla NJ alla B NK alla C ovviamente questo è un'integrale idea per esempio sto su un elemento triangolare per esempio allora questo sarà pari ad A fattoriale B fattoriale C fattoriale che moltiplica due volte l'area dell'elemento diviso A più B più C più 2 è tutto fattoriale se invece ora passo la lavagna devo fare un'integrale di linea NI alla A NJ alla B in dx e questo sarà pari ad A fattoriale B fattoriale B fattoriale per la lunghezza dell'elemento L diviso A più B più 1 in tutto fattoriale eccole qua e queste relazioni qua mi permettono di calcolare ognuno di questi termini qui perché è chiaro che ricado nelle varie forme di integrazione scegliendo opportunamente AB nel nostro caso oppure AB e C nel caso bidimensionale ovviamente ce n'è anche una per il caso di bidimensionale dove compare 6 volte il volume e c'è un'altra NK NM qui viene A, B, C, D 6 volte il volume A più B più C più 6 eccetera allora il primo integrale questo qua che poi sarà lo stesso risultato di quest'altro quindi termini sulla diagonale li ottengo ponendo per esempio A pari a 2 e B pari a 0 nella formula di integrazione a 0 a 0 alla magna e ancora riabbasso quindi ponendo A pari a 2 e B pari a 0 ottengo l'integrazione dei termini sulla diagonale che dà come risultato 2 fattoriale che fa 2 per 0 fattoriale che fa 1 per L quindi il numeratore è 2L il denominatore è 2 più 0 più 1 fa 3 fattoriale che fa 6 ok quindi abbiamo 2L 2L sesti quindi L terzi bene? ci siete? mentre i termini fuori diagonale si ottengono ponendo A pari a 1 e B pari a 1 il che residuisce 1 per 1 per L quindi L è il denominatore e il denominatore è 1 più 1 più 1 che fa sempre 3 fattoriale che fa 6 quindi abbiamo 2L sesti ed L sesti ok questo significa che posso mettere in evidenza appunto L sesti e ottenere 2 1 1 2 f e f con j chiaro? perché mi guardo le sesti 2 1 1 2 eccetera bene e allora adesso ci andiamo a conservare il termine B come abbiamo fatto per il termine A lo scriviamo qua il termine B il termine B è pari a M quadro L sesti 2 1 1 2 tivo tivo in J ok ora vediamo il termine C poi se volete facciamo una breve pausa e poi continuiamo ok allora termine C M quadro integrale su L di N trasposto T infinito è una costante quindi lo porto fuori dal segno di integrale N trasposto dx quindi è uguale M quadro infinito integrale UL N H per X integrale UL N G per X quanto restituiscono questi integrali qua lo vediamo subito passo la lavagna e non guardare giù sulla sinistra è sufficiente porre A pari a 1 B pari a 0 quindi al numeratore avremo L al denominatore avremo 1 più 0 più 1 che fa 2 fattoriale che fa sempre 2 quindi L mezzi quindi tutto è uguale a M quadro di infinito L mezzi 1 1 guardate questa cosa in realtà mi dice che questo termine sorgente termine sorgente si distribuisce equamente sui due nodi quindi immaginate questo elemento generico così in j in cui entra o esce una certa quantità e che cosa fa? si distribuisce per metà sul nodo e per metà sull'altro nodo questo è quello che ci dice questo integrale come pure la quantità che esce perché in questo caso in uscita viene prelevata per metà da un nodo e per metà da un nodo bene a questo punto non ci resta che scriverci anche il termine c e poi facciamo la pausa c ovviamente il termine è non ecco qua 5 minuti e rivediamo grazie